Ti ricordi quando per fare la spesa ti affidavi al tuo negoziante di fiducia? Oggi è ancora possibile! Al Market di Canciani Antonina, puoi scegliere fra un vasto assortimento di prodotti di qualità, surgelati, salumi genuini e freschi, acqua, birra e bibite. Puoi preparare deliziosi panini imbottiti e troverai tutti gli articoli per la tua casa. E da noi il risparmio è garantito! Prezzi sempre convenienti! Non mancano promozioni ogni 10 giorni e offerte giornaliere sui prodotti esposti. Ti aspetti! Per la tua spesa vieni al Market di Canciani Antonina, Cortili Toscano e Via Procida. Ordina la tua spesa e ti sarà consegnato a domicilio chiamandolo 0931 83 48 47 o il 338 81 19 769. Dal 9 al 19 novembre grandi offerte! Acqua naturale San Benedetto da 2 litri a 31 centesimi, birra vex a 1 euro, confezione di Kinder Delice a 2,59 euro, olio d'ante extravergine a 2,99 euro, cofanetto Ferrero Rocher a 6,99 euro. Si chiamo! Sono di più barattamente! E adesso rifiore. Cianuno? Chi? 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 Chi, Chi? Grazie a tutti.